In studio Valentina Frasca. Benvenuti alla prima edizione di MTG. Come avete sentito dalla prima pagina c'è la cronaca in apertura. C'è stato un tentato omicidio nella notte a Partinico, nei pressi di un BNB. La vittima è il figlio del titolare, un 29enne che è stato ferito da un colpo di fucile all'addome. Indagano i carabinieri. I carabinieri di Partinico stanno indagando sul tentato omicidio avvenuto nella notte nei pressi di un BNB dove un 29enne è stato colpito all'addome da un colpo di fucile. Il giovane, figlio del titolare della struttura ricettiva, era uscito in giardino perché sentiva abbaiare i cani. Ma è stato colpito e ferito da un colpo di arma da fuoco. Immediatamente sono giunti i soccorsi sul posto e il 118 ha trasportato il ragazzo all'ospedale civico di Palermo dove è arrivato in codice rosso e dove si trova attualmente ancora ricoverato. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno setacciando tutta la zona non tralasciando nessuna pista. Vessava e sfruttava la ex con il reddito di cittadinanza. Un quarantenne è stato arrestato dalla polizia a Catania. Un quarantenne è stato arrestato a Catania dalla polizia per maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e lesoni dopo la denuncia di vessazioni subite dalla ex compagna, sofferente di alcune patologie e con un riconosciuto ritardo mentale che l'uomo avrebbe sfruttato perché è percettrice di reddito di cittadinanza. La donna finora non l'aveva denunciato per evitare il peggio ma le continue vessazioni e umiliazioni del compagno l'hanno spinta a chiedere aiuto alla polizia. L'arresto è maturato dopo un'indagine diretta e coordinata dalla locale al procura che in cinque giorni ha visto l'emissione di due ordinanze restrittive a carico dell'uomo. La prima di applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza e l'altra di custodia cautelare in carcere emessa dopo minacce di morte rivolte dall'arrestato sia nei confronti dell'ex compagna sia nei confronti dei familiari della donna. Ha scelto di affidare la sua denuncia e di esternare il proprio disappunto sui social con un post che in poco tempo è diventato virale. A parlare di furti e droga nel suo quartiere, il CEP di Palermo, è Don Salvatore Petralia. Non è possibile, non è più tollerabile che ogni giorno mentre celebriamo la Santa Messa vengano rubati gli autoveicoli dei fedeli e di tante altre persone del quartiere e nel quartiere. Basta, basta! Lo afferma Don Salvatore Petralia, parroco della Chiesa San Giovanni Apostolo che si trova in via Barisano da Trani nella rione CEP di Palermo che con un lungo post condiviso sui social esprime tutta la sua esasperazione e sottolinea la necessità di un cambiamento. Convertitevi, cambiate vita, dice rivolgendosi a chi mette a segno furti e spaccia nella zona. C'è un'opportunità di libertà vera per voi. Chiediamo aiuto alle istituzioni, alle forze dell'ordine. Siamo soli, abbandonati, immersi nei rifiuti e soggiogati da chi ogni giorno ruba, spaccia droga, vendendo la morte, disturba la quiete pubblica e spara fuochi inutili e assordanti. A voi che operate il male, andate a braccetto con il demonio disseminando il male. A voi, dico, fate qualcosa di significativo per la dignità della vostra vita. Non lasciatevi illudere e schiavizzare da nessuno. Chiedo agli uomini e alle donne di buona volontà, aggiunge Don Petralia. Coraggio, non girate la faccia dall'altra parte. Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto, dice Beato Pino Puglisi. Vive il quartiere CEP San Giovanni Apostolo, con le sue numerosissime famiglie per bene. Coraggio! Don Petralia poi chiede a tutti di condividere il post per seminare una nuova coscienza sociale e fare in modo che regni la pace, il rispetto e l'amore. Operazioni antidroga in Sicilia da Ragusa a Caltanissetta, fermati numerosi pusher. Operazioni antidroga in tutta la Sicilia, in particolare a Vittoria due arresti, uno a Caltanissetta. A Vittoria è stato arrestato un 56enne in due borsoni, è stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana e 16 chili e mezzo di hashish. La sostanza stupefacente, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato all'uomo 170 mila euro. Operazione similare sempre nel versante Ipparino. Sono stati i carabinieri di Scoglitti ad arrestare un 37enne. Aveva 115 grammi di hashish e 30 di cocaina. Inoltre è stato trovato in possesso di 1.335 euro, ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambe le persone arrestate nel territorio di Vittoria sono state rinchiuse in carcere a Ragusa. Operazione antidroga invece della squadra mobile a Caltanissetta, dove un uomo è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina nascosta negli slip. Adesso si trova ai domiciliari. Un avvocato di Modica, Dario Giannone Malavita, ha trovato sotto casa la sua auto danneggiata e con i vetri frantumati, secondo il penalista e opera di un suo ex assistito. In attesa che le indagini facciano chiarezza sull'accaduto, l'ordine degli avvocati si schiera al fianco dell'avvocato. In pieno centro di pomeriggio, l'amara sorpresa. L'avvocato di Modica, Dario Giannone Malavita, viene contattato dalla polizia di Stato, scende nel parcheggio di casa e trova l'auto devastata, con i vetri in frantumi e le ruote tagliate. Un chiaro messaggio a scopo intimidatorio, forse una ritorsione e non certamente un furto, anche perché dall'auto nulla è stato portato via. È probabile che sia un gesto di un ex assistito, ma ciò che preoccupa è la gravità del gesto e il danno cagionato. Il gesto in sé mi fa pensare a una società, quella odierna, dove bene o male tutti i liberi professionisti soggiacciamo a questi vendette, a questi gesti violenti. Penso ai medici o agli infermieri che vengono aggrediti. In attesa che la giustizia faccia il soccorso, anche perché è illegale, Giannone Malavita, subito sportò querela l'odio degli avvocati di Siracusa, detto a fianco alla famiglia dell'avvocato, in questo momento in cui sono sotto minaccio alla sicurezza e la serenità. È un gesto che indubbiamente mi lascia atterrito, mi lascia e lascia soprattutto la mia famiglia terrorizzata dalla gravità, dall'orario in cui è stato fatto, dal posto Modica Centro. Lo scorso 17 luglio un incendio doloso ha distrutto una vettura parcheggiata a Ragusa Ibla. Tre mesi dopo i carabinieri hanno fatto luce sull'episodio arrestando i presunti autori del rogo. Un ragusano di 27 anni e due gelesi di 27 e 22 anni finiti ai domiciliari per decisione del GIP. Acquisendo i filmati delle telecamere di video sorveglianza, gli uomini dell'arma hanno prima individuato il 27enne di Ragusa e grazie alle intercettazioni telefoniche sono arrivati ai suoi complici. L'incendio all'auto è stato appiccato a causa dei dissidi tra il giovane ragusano e il proprietario della vettura. Gli arresti sono stati eseguiti contemporaneamente a Ragusa, Vittoria e Gela. Una notizia molto curiosa, un avvistamento a San Giovanni Gemini che sta mettendo in apprensione gli abitanti del comune dell'Agrigentino. Sarebbe stato visto un coccodrillo di un metro e mezzo circa o comunque un animale molto simile. Noi siamo andati sul posto. La città è incredula ma allo stesso tempo è impaurita dalla presenza di un coccodrillo o di un simile di circa un metro e mezzo avvistato da un cacciatore incontrato a Mancuso a San Giovanni Gemini nell'Agrigentino. Il cacciatore vuole mantenere l'anonimato e non vuole rilasciare nessuna dichiarazione. In un primo momento i residenti pensavano si trattasse di una notizia infondata ma poi è arrivata la nota dell'Asp che ha ufficializzato la presenza dell'animale simile appunto ad un coccodrillo. Subito dopo interviene anche il sindaco di San Giovanni Gemini che attraverso un post sulla sua pagina Facebook fa sapere di avere convocato una riunione con le autorità competenti per stabilire una cabina di regia per monitorare costantemente la situazione in attesa che l'animale venga catturato. Quindi da primo cittadino è chiaro che mi sono, diciamo, mosso per tutelare i miei concittadini avvisando gli organi preposti. Nel frattempo ho diramato un comunicato nella mia pagina social dove invito i cittadini a non recarsi sul sito dove è stato avvistato che si tratta di Contrada Mancuso e invito il residente della zona a stare attenti nell'attesa che questo coccodrillo possa essere preso e affidato agli organi preposti per la sua tutela. Anche il veterinario responsabile del settore dell'Asp di San Giovanni Gemini è intervenuto sperando che presto si possa arrivare alla cattura. Bisogna individuare dei percorsi certi che coinvolgono anche altri enti e associazioni e quindi muoversi all'unisono cercare di capire se effettivamente trattasi di un coccodrillo e procedere come prevede la norma. Il cacciatore a sporto denuncia i carabinieri ovviamente la zona dove è stato avvistato l'animale in questo momento è off limits. L'uomo avrebbe avvistato il coccodrillo mentre si trovava all'interno del suo podere anche perché quella è una zona in cui risiedono diverse abitazioni. Da ieri sono partite le ricerche del rettile e dopo l'ufficialità della notizia si è scatenata una sorta di psicosi tra gli abitanti. Spero solamente che se la notizia è vera venga risolta nel breve tempo possibile dalle autorità competenti. Non si parla d'altro anche sui social e diciamo che è diventata anche una questione mediatica, molto mediatica. Una giornata dedicata alla promozione della prevenzione dei disastri ambientali è stata promossa dall'assessorato alla protezione civile del comune di Ragusa. Si chiama Io non rischio, la campagna di sensibilizzazione ed è stata lanciata nell'ambito della settimana nazionale della protezione civile. Come ridurre i disastri ambientali e come i cittadini possono proteggersi da terremoti di sessi idrogeologici e casi in cui è minacciata l'incolumità il comune di Ragusa ha preparato quattro video destinati ai ragazzini fino ai sei anni, dai sei ai quattordici anni un terzo agli adulti, un quarto agli anziani nell'ambito della giornata internazionale per la riduzione dei disastri ambientali. Questa settimana è dedicata anche alla campagna di sensibilizzazione e unio rischio della protezione civile. Questa mattina si sono incontrati in Piazza Libertà Ragusa per una giornata intensa di informazione per la prevenzione che continua anche domenica a Ragusa Ibla. Il comune di Ragusa ha recentemente aggiornato il piano di protezione civile. Ho cercato di individuare tanti possibili rischi per ogni rischio mettere in atto tutta una serie di misure e di azioni che possono chiaramente prima prevenirlo ma poi anche riuscire ad adottarle queste azioni per cercare di salvare le vite umane. Che tipo di rischio c'è a Ragusa? Il rischio sismico ovviamente è il rischio maggiore che purtroppo abbiamo. Siamo chiaramente tutta la Sicilia orientale in una grossa faglia perché chiaramente in una parte in cui ci sono le croste terrestre diciamo sfalsate, disallineate per cui è facile, può capitare che possono esserci terremoti. Non sono prevedibili purtroppo i terremoti però abbiamo in atto e possiamo fare tutta una serie di comportamenti che possono sicuramente salvaguardare vite umane. Ne approfittiamo e vi ringraziamo per essere presente perché così iniziamo insieme perché grazie a voi vogliamo diffondere alcun materiale che abbiamo prodotto. Queste cartelle sono quelle che stiamo cominciando a mettere nelle aree di ammassamento. ognuno sa accanto deve sapere quale aree di ammassamento ha vicino a casa. I beni architettonici possono essere tutelati soprattutto in casi di intemperie, alluvioni, terremoti. Le azioni da mettere in campo in maniera prioritaria? Mettere in campo un protocollo dove si sappia perfettamente come operare. Squadre specializzate nella salvaguardia del patrimonio e attrezzature capace di intervenire su questo tipo di patrimonio. È importante anche capire che ci sono abbastanza uomini e mezzi nella protezione civile? Assolutamente no, soprattutto parliamo in termini di uomini. I volontari sono sempre pochi per quello che sono le richieste e le necessità. Purtroppo, diciamo, quello che noi magari eravamo semplici abituati al terremoto, oggi i cambiamenti climatici sono diventati un grossissimo problema. E a proposito di disastri ambientali parliamo di lotta alle fumarole deferiti alla Procura della Repubblica di Ragusa per smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali e per immissione di fumi nocivi in atmosfera altri 11 titolari di aziende agricole di Vittoria, Ragusa, Acate e Scigli. Prosegue l'attività della Polizia Provinciale di Ragusa per il contrasto alle fumarole. I controlli hanno consentito di deferire alla Procura della Repubblica di Ragusa per smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali e per immissione di fumi nocivi in atmosfera altri 11 titolari di aziende agricole di Vittoria nelle contrade Alcerito, Anguilla, Pozzo Bollente e Gaspanella, Ragusa, nelle contrade Randello e Palamentana, Acate, nelle contrade Canalotti e Dirillo e Scigli, nelle contrade Cancellieri, Livia e Trillalici. Altri 21 titolari di aziende agricole operanti lungo la fascia trasformata compresa tra Marina di Acate e Scigli che avevano dismesso gli impianti serricoli e accatastato i rifiuti vegetali e non solo nei propri terreni, sono stati formalmente diffidati a non procedere all'abbandono o all'incendio di questi rifiuti e a conferirli a ditte autorizzate, dimostrando poi il corretto smaltimento tramite l'esibizione del formulario di identificazione utilizzato per il trasporto. Purtroppo, qualche agricoltore persevera nella violazione delle norme ambientali. Per tale motivo, ho chiesto alla Polizia Provinciale di intensificare i servizi anche in orario notturno per contrastare tali comportamenti scellerati, ha dichiarato il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti. Sono in tutto 29 le persone denunciate dall'inizio della stagione estiva per la bruciatura dei rifiuti agricoli, pratica illegale ed odiosa che crea in tutta la fascia costiera da Acate ad Ispica enormi danni per l'ambiente e per la salute umana. Ancora in tema, il presidente dell'Associazione Politico-Culturale Ragusa in movimento, Mario Chiavo, la denuncia quanto accade nello spazio antistante l'impianto di atletica leggera di Contrada Petrulli. Ci hanno segnalato e abbiamo verificato, dice, la presenza di spazzatura di ogni tipo. In alcuni casi è occultata dal verde che sorge sui cigli stradali, in altri abbiamo a che fare con presenze davvero anomale, come quella che riguarda una bobina che sembra essere stata abbandonata e aspettiamo smentite in proposito da quanti hanno effettuato i lavori per la fibra in zona. Una condizione complessiva veramente spiacevole, conclude Chiavola, che ci fa pensare come l'assessorato all'ecologia abbia bisogno di essere risvegliato. Esercitazioni militari all'interno della riserva naturale di Punta Bianca. Siamo in territorio di Palma di Montechiaro. La denuncia è dell'Associazione Mare Amico che adesso annuncia una protesta. L'Associazione Mare Amico ha annunciato per il 16 di ottobre un anzittin nella riserva di Punta Bianca nel territorio di Palma di Montechiaro per protestare contro la ripresa delle esercitazioni militari da parte dell'esercito che da più di 60 anni continua a violare un territorio che sotto l'aspetto paesaggistico, storico e ambientale ha una valenza incommensurabile, evidenziano dall'Associazione. La zona di Punta Bianca è caratterizzata da numerose piccole spiagge strette e lo scorso anno è diventata riserva naturale orientata con il decreto 157 del 28 giugno. Le esercitazioni militari dicono ancora dall'Associazione oltre a violare la storia e il paesaggio compromettono l'ambiente immettendo in atmosfera sostanze pericolose come ad esempio i residui di polveri da sparo. Quelli che vedete sono video, foto girate proprio dall'Associazione. Durante le esercitazioni militari vengono rilasciati grandi quantità di piombo evidenziano ancora da Amare Amico sostanza velonosissima che, come tutti i metalli pesanti è altamente tossica per l'ecosistema marino. Anche le forti vibrazioni provocate dalle esplosioni hanno già causato numerosissime frane con un considerevole arretramento della fragile falesia. Giova ricordare che nel 2017 la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito dopo un sopralluogo presso il poligono di Drasi aveva suggerito la bonifica dei luoghi. Hanno ribadito dall'Associazione preannunciando dunque per lunedì il sit-in. Anche quest'anno l'esercito vuole tornare a Punta Bianca per sparare. Come lo scorso anno, anche quest'anno organizziamo un sit-in di protesta al fine di impedire questo scempio. Punta Bianca deve restare riserva naturale non è tollerabile che si continui a sparare. Giornate fai d'autunno oggi e domani in Sicilia con gli studenti che, come da tradizione, diventano ciceroni. Già nel 1933 Benito Mussolini emanò una circolare che riguardava il modo di costruire i rifugi per proteggere la popolazione dalle incursioni aeree. Nel 1934 per applicare la circolare si obbligò alla costruzione di rifugi antiaerei nei nuovi palazzi civili negli uffici, nelle scuole e nelle ville pubbliche. Ne è una testimonianza il rifugio antiaereo che si trova all'interno del complesso scolastico Perez-Madre Teresa di Calcutta ex monastero dell'Assunta oggi e domani aperto in occasione delle giornate fai d'autunno. Oggi le guide sono i nostri alunni che sono i nostri apprendisti ciceroni quindi che faranno un viaggio nel tempo quindi vedranno i visitatori in questa giornata fai d'autunno. Se vedete questa è la mia scuola siete anche oggi qui perché oggi si svolgono le attività autunnali del fai. Vi ricordo cosa è il fai. Il fai è un'associazione cioè il nostro Fondo Ambiente Italiano che protegge valorizza ed conserva il nostro patrimonio artistico ed spero che il viaggio vi piaccia. I ricoveri furono realizzati per proteggere la popolazione dalle incursioni aeree nemiche furono scavati nel sottosuolo dei palazzi. Siamo all'ingresso di questo rifugio e possiamo immaginare la corsa affannosa delle persone che al suono delle sirene antiaereo scendono queste scale e si siedono sui freddi sedili aspettando la fine del bombardamento con il terrore di non sopravvivere all'attacco. Molti ricoveri furono progettati secondo delle regole ben precise. Dovevano essere di forma quadrata o rettangolare con una serie di gallerie intercomunicanti e con sedili continui dove sostare durante il bombardamento. Lo che stiamo visitando ha una soletta incalcestrutto particolarmente spessa per cui è più sicura di altri che invece crollavano se venivano colpiti. Nonostante questo la violenza dei bombardamenti si può vedere da una parte del rifugio che è crollata sotto le bombe. La notte del 23 giugno 1943 Palermo subì il primo bombardamento aereo ad opera dei aeroplani francesi partiti dall'Africa. In seguito gli inglesi iniziarono una serie di incursioni aeree notturne. Dal 7 gennaio 1943 Palermo verrà bombardata anche di giorno da aeroplani americani. Le incursioni durano tre anni fino al 17 agosto 1943. I bombardamenti furono più di 100 che ridussero Palermo ad un cumulo di macerie. Qualche minuto di pubblicità adesso per noi che torniamo tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte di MTG giornata del docente oggi a Catania presso l'Istituto Maria Ausiliatrice si è parlato di arte dell'educazione con una formazione rivolta ai docenti. La relazione educativa cardina del sistema preventivo al centro della formazione rivolta ai docenti delle istituzioni scolastiche delle figlie di Maria Ausiliatrice siciliane in una giornata dedicata ai docenti in un tempo di grandi incertezze e cambiamenti per la scuola italiana. Si è parlato di emergenza educativa come affermava Papa Benedetto XVI di vuoto affettivo e relazionale che segna l'esistenza di molti giovani tutti i punti cardini del sistema preventivo di Don Bosco un sistema educativo che ha forgiato intere generazioni di giovani in tutto il mondo. Ad aprire la giornata Suor Carla Monaca presidente regionale CIOFS e consigliera regionale Fidae. Nelle nostre scuole sicuramente la dimensione didattica è importante ma soprattutto guardiamo l'aspetto educativo perché vogliamo che i nostri alunni raggiungano la loro eccellenza e Dio nel massimo di quello che possono dare dei doni che loro hanno. Si è parlato anche dei problemi nei giovani causati dalla pandemia. Abbiamo bisogno di ricostruire una nuova scuola. Oggi non possiamo più riproporre ai nostri ragazzi la scuola di prima. Ci sono nuovi percorsi, nuove attenzioni ma soprattutto il saperci prendere cura dei nostri giovani e curare le ferite profonde. Importante è la presenza tra gli altri anche di ex alunni e alunne delle scuole salesiane ormai inserite nel mondo della scuola e dell'università per comprendere quali attenzioni porre nell'arte di educare perché si creino relazioni non solo affettive ma intenzionalmente educative e come vivere l'adultità generativa tipica dell'educatore. Ecco, proprio per poter metterle a servizio dell'umanità intera e non soltanto tenerle per sé. Dalla Spagna all'Irlanda dalla Repubblica cieca alla Finlandia esperienza europea per una ventina di docenti che questa mattina si sono confrontati all'Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica nell'ambito degli Erasmus Days. Erasmus Days all'Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica dopo i saluti del dirigente scolastico il professore Bartolomeo Saitta i docenti si sono confrontati sull'arricchente esperienza che si è conclusa da qualche giorno e che li ha portati in giro per l'Europa alla ricerca di nuove opportunità di apprendimento da portare tra i propri alunni referente del progetto il professore Raffaele Iacono. Abbiamo voluto creare un momento comune di disseminazione insieme all'Archimedio di Modica e al Galilei e invitando anche le scuole medie del paese e altri enti organizzazioni perché anche loro possono essere coinvolti nei progetti Erasmus in Irlanda in Spagna Cecoslovacchia Praga dove hanno seguito o andranno a seguire ancora il prossimo mese dei corsi di formazione i progetti Erasmus a noi servono per potenziare formare il nostro personale abbiamo potuto acquisire delle buone pratiche che speriamo di poter poi riversare nel nostro insegnamento e nella nostra didattica ovviamente non stiamo parlando solo della nostra scuola ma di tutto diciamo questo nostro comprensorio scolastico noi abbiamo bisogno di queste buone pratiche per svecchiare il nostro insegnamento considerato che abbiamo comunque un alto tasso di dispersione scolastica presente anche la sindaca Maria Monisteri che ha voluto far sentire la propria vicinanza e quella dell'amministrazione comunale l'ente comune è stato sempre vicino alle esperienze delle scuole modicane bisogna proiettare gli alunni in un mondo e quegli strumenti sono gli insegnanti ed è necessario che si formano per riportare a scuola le loro esperienze internazionali un mondo senza confini ovviamente sempre più senza confini ma bisogna essere attrezzati e competenti per poterlo affrontare nella maniera migliore era il nostro ultimo servizio di oggi grazie per averci scelto buon proseguimento su video mediterraneo grazie per aver guardato il nostro